Quest'anno la Festa della Fucarazza è cresciuta ed è diventata il Festival della Primavera. Dall'8 al 13 aprile il Festival si svolgerà in varie zone di Carosino, proprio per sottolineare il concetto di comunità. Lunedì 8 aprile. Fuoco, tradizione, cultura e rito. Presentazione e proiezione cortometraggio ore 19, Palazzo Ducale da Iala Valva. Storielle paesane, ore 20 e 30. Sede, Associazione Fucarazza. Martedì 9 aprile. I sapori della tradizione, mani in pasta. Corso di panificazione, ore 15, Masseria Misicuro. Selvaggia, laboratorio didattico artistico, ore 17, Libreria Laro. Fioriture spontanee. Comunicazione finale del laboratorio teatrale, ore 20, Sede, Associazione Fucarazza. Mercoledì 10 aprile. I sapori della tradizione, mani in pasta. Corso di focaccia e pizza in pala, ore 15, Masseria Misicuro. Finestre. Rassegna poetica, ore 20, Piazza Don Bosco. Giovedì 11 aprile. I sapori della tradizione, mani in pasta. Corso di panzerotti pugliesi, ore 15, Masseria Misicuro. Tutta la notte del mondo. Presentazione, graphic novel, ore 18, Palazzo Ducale da Iala Valva. Veglia funebre, DJ set col morto, ore 20 e 30, Sede, Associazione Fucarazza. Venerdì 12 aprile. Cerimonia del caffè Eritreo e quotidiane epifanie, ore 17, Sede, Associazione Fucarazza. Mitomorfosi. Letture, musica, pittura e concerto o Petroleum, ore 20 e 30, Via Giorgio Lapira. Sabato 13 aprile. Discussione ed esempi pratici di agricoltura organica rigenerativa, ore 9, Via Togliatti 4. Calma di fuoco, dal calore della terra al colore delle piante, passeggiata e boristica e laboratorio di serigrafia con pigmenti naturali, ore 15, Via Giorgio Lapira. Spettacoli di burattini, ore 19, Via Giorgio Lapira. Corteo inaugurale, ore 20, partenza da Via Giorgio Lapira. Accensione fuoco, ore 21, Concerto Storytellers Irish Folk Rock, ore 21 e 30. Live set a tollo 13, Surf and Roll, ore 23 e 30. Concerto in acustica, We Are Pop Rock, ore 1 e 30. Passeggiata notturna e concerto dell'alba. Incontro davanti al fuoco, ore 4. Concerto presso la masseria Misicuro, ore 5. Stand gastronomici presenti nell'area festa. Durante la giornata si esibiranno band emergenti. Il Festival della Primavera vi aspetta!